bentornati cominciamo a esplorare la galleria dei filtri di photoshop per aprirla andiamo su filtro e galleria filtri noi cominceremo dall'inizio per cui abbiamo in alfabetico la cartella artistico e abbiamo un filtro che si chiama affresco vediamo che è già stato applicato ora per vedere cosa fa un filtro cominciamo col mettere tutti i parametri a zero qui abbiamo un bottone per abilitarlo disabilitarlo così vediamo che cosa è cambiato vediamo che sostanzialmente va a simulare quello che potrebbe essere un affresco su muro ora qui noi possiamo determinare la dimensione del pennello quindi i tratti diventano più o meno grossi a seconda di quanto stabiliamo che è grande il nostro pennello poi abbiamo i dettagli del pennello quindi in pratica le pennellate diventano più o meno evidenti e infine abbiamo una texture che possiamo rendere più o meno invasiva gestendo questi tre parametri è possibile stabilire più o meno come vogliamo che venga il nostro affresco in maniera assolutamente arbitraria possiamo decidere che ci piacerebbe un effetto di questo tipo oppure possiamo ingrandire le dimensioni del pennello e diventerà meno preciso possiamo diminuire i dettagli del pennello e diventeranno meno visibili possiamo aumentare la texture e andremo a ottenere un effetto di questo tipo questi sono effetti artistici quindi non esiste un modo giusto o sbagliato di usarli l'importante è capire che cosa fanno i vari parametri e utilizzarli in modo da raggiungere l'obiettivo che si è prefissato per esempio a me non dispiace per niente tenermi molto molto blando diciamo che quasi mi piace di più con l'effetto con tutti i fader a zero vediamo cosa succede se lo andiamo ad applicare attenzione i filtri sono distruttivi nel senso che una volta applicato sull'immagine non è più possibile tornare indietro se si è salvata l'immagine c'è un rimedio però molto semplice ma che vi costerà più spazio sul disco fisso io posso andare a sbloccare il livello clicco col tasto destro e lo converto in un oggetto avanzato questi concini ci conferma che è andato buon fine ora io vado a prendere galleria filtri non sto neanche a riaprirlo gli do ultimo filtro utilizzato e lui si ricorda che cosa avevo fatto ora vedete che il filtro è stato applicato ed è esattamente la stessa cosa che se l'avessimo applicato sul livello bloccato la differenza però qui abbiamo questa freccia e qui abbiamo filtri avanzati ora cose positive dei filtri avanzati sono due la prima io posso spegnerlo posso decidere che non lo voglio più in pratica mi tiene una copia dell'originale quindi io anche se salvo il file non ho perso niente posso sempre spegnerlo e recupero il mio file originale seconda cosa posso aggiungerne posso concatenare più filtri qui sotto e si vanno ad aggiungere terza cosa ho una maschera una maschera che funziona sui filtri per cui se io prendo uno strumento di disegno prendiamo per esempio lo strumento gradiente vedete che posso applicare posso applicare il mio filtro soltanto su una parte dell'immagine la parte bianca ovviamente mostrerà l'effetto mentre la parte nera sarà l'originale in ogni momento io posso prendere questo filtro e buttarlo via e ho riottenuto la mia immagine originale che adesso potrei andare a trasformare in un unico livello e sarebbe come se io non avessi mai fatto niente quindi questo metodo non è distruttivo perché mi permette sempre di tornare indietro al mio alla mia immagine originale